Alleluia, 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 Alleluia. Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I parisei e gli scrivi mormoravano dicendo, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Chi di voi si ha cento pecore e ne perde una, non lascia alle novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la trova. Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro, rallegratevi con me perché ho trovato la mia peccora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per novantanove giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha dieci monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente, finché non la trova. E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice, rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Parola del Signore Fratelli e sorelle Voglio dire a tutti che sono benvenuti a questo nostro convegno, nostro incontro di tutte le parti del mondo. Tutte le persone sono arrivate qui con tante difficoltà per i viaggi, la stanchezza, i soldi che si devono spendere e tutte le cose che sono indietro di questi sorrisi, questi visi belli che abbiamo trovato qui. Benvenuti tutti Possiamo avere un atteggiamento giusto per trovare le persone che sono qui. E penso di poter chiedere a tutti noi delle cose semplici però importanti perché possiamo vivere insieme fino alla domenica. Non siamo spettatori, spettatori per vedere le cose come uno che è un teatro o un spettacolo. Siamo attori. Siamo attori. Tutti noi siamo attori. A noi costruire questi giorni. C'è una condizione per vivere insieme agli altri. Nessuno di noi vive per se stesso. Non vivere per noi stessi. Nelle piccole cose, nel nostro atteggiamento verso i fratelli, nell'accoglienza, nel salutare le persone. Che ci sia in noi questa disposizione. Incominciamo a costruire questi giorni adesso. Con il modo con cui vogliamo accogliere le persone. Una seconda cosa. Perché giudichi il tuo fratello? Perché disprezi il tuo fratello? Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio. Siamo qui perché vogliamo che si realisi questa parola della lettera ai Romani. Vogliamo costruire la vita della Chiesa perché ogni ginocchio si pieghe davanti al Signore. E ogni lingua renda gloria a Dio. Voglio chiedervi di mettere questa disposizione nel cuore. Vogliamo costruire la lode di Dio. La lode di Dio possiamo sperimentare già nell'accoglienza fraterna. Diversità di lingue, culture, formazione, tutto, razza, paese. Tutti siamo fratelli. E la provvidenza di Dio ci offre il Vangelo che è del capitolo 15 di San Luca. Il capitolo della misericordia, delle parabole della misericordia. Tra pochi giorni si apre il giubileo della misericordia. Tutti noi saremo coinvolti in questo giubileo. Ad accogliere la misericordia di Dio. E esercitare questa misericordia. Per vivere la parola di Paolo ai Romani voglio proporre alcune cose ancora. Questo uomo accoglie i peccatori. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Siano tutti accolti. Tutti voi peccatori. Io sono il primo. Non siamo chiamati a guardarci. Senza la misericordia. accogliere, accogliere i peccatori che siamo noi. Siamo invitati. Il Papa ci ha detto questo in una lettera. Siamo invitati ad accogliere il peccatore. A respingere il peccato. Però ad accogliere il peccatore. Contiamo sulla debolezza gli uni degli altri. Si incomincia questo incontro con un patto di misericordia. Di perdono reciproco. Può darsi che tanti di noi incontrino anche nel sacramento della misericordia e del perdono un segno dell'amore di Dio in questi giorni. Però nessun giudizio. Tutto perdono. Tutto accoglienza. Questo pastore della parabola raccontata da Gesù che cosa la fa? Lui fa quando l'ha trovata pieno di gioia se la carica sulle spalle va a casa chiama gli amici vicini e dice loro rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora quella che si era perduta. Prendere sulle spalle i nostri fratelli. Dobbiamo fare questo fuori di questo posto. però fino a domenica tutti noi accogliamo l'invito di mettere sulle spalle i fratelli e sorelle che sono qui. L'altra cosa rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora quella che si era perduta. Rallegriamoci di nuovo con la vita delle nostre comunità. Le comunità che hanno passato delle difficoltà che hanno vissuto crisi che hanno avuto dei problemi di tutti i sensi. Facciamo festa gli uni con gli altri. Questi siano giorni di gioia. Di gioia. È vietato i musi chiusi. Questi giorni tutti siamo chiamati a vivere nella gioia. è una penitenza. Alle volte è più difficile sorridere. Alle volte è più difficile andare incontro agli altri. Nessuno di noi si rinchiuda in sé stesso. questo è il proposito per vivere questi giorni. Che Dio ci dia questa grazia. è più difficile. Grazie a tutti.